ok benvenuto sul canale oggi vediamo come passare dai canali digitali ai canali satellitari cliccate sul tasto casetta questo qua andate su tv in diretta e poi andate con la freccia in alto e andate su elenco canali cliccate col tasto centrale qui uscirà questo menu andate con la freccia a sinistra andate qui ad antenna con la freccia su poi cliccate il tasto ok e qui farà scegliere fra antenna e tv sat andate su tv sat cliccate ok questo punto la televisione è sui canali della parabola a me non si vedono i canali della parabola perché non è collegata quindi adesso potete scorrere tutti i canali se andate su home su tv in diretta io sto su rai 4 hd spingo il tasto dei canali questo per vedere la guida tv e come vedete questi sono i canali della parabola perché c'è questo simbolo sulla destra se vado giù vediamo che ci sono io nasa tv hd come preferito ma non si vede anzi si vede guarda che bella e questa è la qualità dell'hd ultra hd del canale nasa ok questo è il metodo per vedere i canali tv sat sulla smart tv samsung per ripassare ai canali digitali andate su casetta questo tasto qua poi andate su tv in diretta tasto ok hanno casetta tv in diretta andate su elenco canali vi rispostate su questo lato con la freccia sinistra andate su tv sopra cliccate col tasto centrale e scegliete di nuovo antenna e la televisione ritorna sui canali digitali ok spero che questo video ti è utile se ti è utile lascia un like ed iscriviti al canale ciao